Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini del Cangello Nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Ma io so cosa hai fatto, Dick. L'ho sentito dire. Hai ammazzato quei rifugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Ma hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così, giusto? Sì, voglio che tu sappia che io non volevo uccidere quel vecchio. Non volevo! Non mi ha lasciato scelta, cazzo! Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile! Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Se mi hai seguito fino a qui, sei tornato per lei? Non è vero! Sì, sei venuto per la tua ragazza! Ma ho una brutta notizia per te, Dickon St. John. Quando Guri ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. L'ossignore ha spezzato la parola mia. L'ha schiacciata come l'uovo del cazzo! L'ha schiacciata come l'uovo del cazzo! L'ho schiacciata come l'uovo del cazzo! Guarda, sono quasi a secco. L'ho schiacciata come l'uovo del cazzo! Ok! L'artiglieria pesante massacrano! Riccardo! 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 Grazie a tutti. 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 Ok... Sì. Spero che non ti dispiace. Spero... 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 S neighbours... Demi... Spero... 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 A proposito... essa avrebbe rappresentato l'occasione per ricostruire. Era tutto qui, sicuro, protetto dalla grazia di Dio. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi? Io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! Sei tornato. Ok. Andiamo. Aiuto. Dio santo. Ehi, dov'è Buser? È morto. Qualcuno mi sente? Dottore! Merda, prendi un po' d'acqua, che... Ok. Ok, ok. Ehi, puoi allestire un'infermiera da campo laggiù? Ehi, c'è una grotta laggiù, sempre scorta e vintaggia, quindi qualcuno... Vai. Tu e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Posso aiutare? Sono un medico. È finita. Chiunque non sia rimasto ucciso, ferito nell'esplosione, ha deposto le armi. Dov'è Buser? Ricky, mi serve una mano qui! Ricky! Sì. Ti prego, ti prego! Sangue, non mi sono aiuto! Per favore! Non hai mai aiutarti! Di cosa hai bisogno? Ehi! È rimasto qualcosa per me? Buser. Sono in ritardo. No. Sì. No, no, no. Sono saltato giù. Che cazzo! Ero quasi alla fine del ponte, già. No, no, ho sentito l'onda d'urto anche a tre metri sott'acqua. È stato incredibile! Quindi è... Che c'è? Savi che mi fossi fatto esplodere? Poi che ti avrebbero rotto le palle. Beh, io. Ciao. Sorellina! Sì, è una lunga storia. Allora... So che qualcuno ti ha cercata. Non smetteva di parlare. Andagli retta. Era più... Era più una sua impressione. Ricky! Eddie! Chi vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato. Aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai! Ci ha lasciati a marciare. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militare. Ehi! Ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello! È andata! Ce l'hai fatta! Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... Morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta? Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone e si accendi una candela. In realtà, questo sembra più un farò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo hai calato il silenzio? Ti stanno aspettando. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile. E quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete. Non lo sono. Ma quello... quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare. E non per obbedire agli ordini di un pazzo. Ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire. Con fatica. E combattere per salvare vite. o per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete. Tutto ciò che siete. Per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso per cosa lotteremo? una volta Iron Mike lui mi disse che che noi rendiamo il mondo quello che è le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Vedete? è solo il primo passo. Avevi detto niente discorsi? Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Beh, non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora pronta a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia. No, sap nên che ci vengono? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti